Domani sera alle 21 chiude ufficialmente la stagione 2012-2013 del Teatro Sociale di Canicattin con la rappresentazione dell'Avaro di Molière con protagonista Pippo Pattavina per la regia di Angelo Tosto. Si tratta dell'attore tra i più amati del panorama teatrale siciliano, protagonista di una delle commedie più famose di Molière. Ispirato da Ulularia di Plauto, quasi ricalcato fino al plagio, il testo di Molière brilla per la forza rinnovatrice della sua eccentricità. Arpagone, uomo avaro, egoista, egocentrico, mantiene dentro la sua casa un regime austero di frugalità e semi-miseria umiliando le aspettative e desideri dei figli Cleante e Delisa e facendosi deridere e criticare dagli stessi domestici a suo servizio. Unico interesse di Arpagone è accumulare il denaro, nascondendolo agli occhi di tutti per il puro cinico piacere di possedere. L'evento rientra nel cartellone della rassegna teatrale organizzata dal direttore artistico Salvo Bona il quale con grande impegno e dedizione ha saputo rendere ogni appuntamento teatrale unico grazie al lavoro sinergico degli attori di fama nazionale che hanno calcato il palcoscenico del moderno teatro canicattinese.